Salve a tutti, mi chiamo Oldsneak72 e questo è il mio canale. Quello che state vedendo è il mio trailer di presentazione. YouTube mi dice che i primi secondi devono colpire in modo da attirare il pubblico. Sinceramente potrei farlo, sì, volendo, sì. Ma in fondo, la persona che ha cliccato sopra il canale o in un mio video, non ha già dato prova di interesse o curiosità? Ma perché mai dovrei attirarla con un trucchetto? Quindi, sfondo bianco, ribelle. Faccio gameplay? Sì, siamo tantissimi, lo so. E questo è il bello, perché ognuno di noi ci mette del proprio. Io ho pensato a Skyrim e God of War. Nel frattempo però vi racconto di storie, leggende, miti ed antichi astronauti. 217 iscritti. Paesini vicino a casa mia contano roba come 70, 130, anche 180 abitanti. Un intero paesino mi segue. Non so voi, ma è tantissimo. Vediamo un po'. Nei miei ultimi sei video ho fatto uscire quattro episodi di Skyrim e due di God of War. E questi sono alcuni dei commenti che ho ricevuto di tutti quei ragazzi che mi hanno dato fiducia. Ma veramente YouTube mi chiede di ingannarli? Sfondo animato con pianeti. Avanti, vediamo chi è più duro. La grandezza di un canale non è determinata dal numero di iscritti. Basta una sola persona rendere questa esperienza gigante. La grandezza di un canale non è un canale non è un canale non è un canale. La grandezza di un canale non è un canale non è un canale. Grazie.